Si rinnova e si rafforza lo storico legame tra JTI e la filiera tabacchicola italiana, con un nuovo accordo che prevede per il 2022 l'acquisto di 8.000 tonnellate di tabacco provenienti dall'Alta Valle del Tevere in Umbria e dal Veneto. Un impegno nel segno della sostenibilità e del rilancio dell'intera filiera del settore. 8.000 tonnellate saranno il nostro impegno concreto di acquisto di tabacco italiano nel 2022, un incremento quantitativo, un impegno nuovamente solidificato in un periodo anche molto difficile per la filiera. Per ragioni semplici, noi crediamo nella filiera, crediamo nell'eccellenza dell'Italia in questo ambito e crediamo nel ruolo di questa filiera nel rilancio economico del paese. Quindi il primo passo l'abbiamo fatto e siamo molto felici di farlo. Il rapporto di collaborazione tra JTI e la filiera tabacchicola italiana è iniziato nel 2012, da quando è stata avviata con il territorio Umbro e Veneto una relazione di mutuo scambio che ha visto investiti da allora oltre 300 milioni di euro. Ed è anche grazie all'azienda che la produzione di tabacco made in Italy ha raggiunto col tempo un altissimo livello di specializzazione, diventando un volano economico soprattutto per l'indotto dell'Alta Valle del Tevere, territorio che impiega più di 2.000 lavoratori. Per garantire la sostenibilità economica e occupazionale, JTI ha individuato un nuovo partner commerciale, Delta Fina, assicurando così all'azienda di mantenere il rapporto con il territorio. Un risultato, quello attuale, reso possibile anche grazie all'impegno di Confagricoltura, partner storico dell'azienda, nell'obiettivo di rendere tutta la filiera più efficiente e solida. Questa filiera va rafforzata e dovremo tutti insieme programmare per una nuova competitività del settore, per una nuova sostenibilità del settore. Avere a fianco Japan sarà per noi un elemento importante e quindi tutti insieme dobbiamo lavorare per far sì che possa essere garantito un giusto reddito anche nella produzione e nella coltivazione del tabacco. Dobbiamo permettere a tutta la filiera del tabacco di essere sostenibile non più solamente dal punto di vista ambientale, ma anche dalla qualità del lavoro e anche dal punto di vista economico. Perché nel momento in cui i produttori lavorano sereni e hanno dei progetti a medio e lungo termine, gli permettiamo di poter far sì che si produca un prodotto sempre di più di qualità. Grazie.